Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini, per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scriveva in questo periodo ad una delle sue figlie spirituali. Siamo con l'epistolario numero 3. Da questo volume che raccogliamo tutte le lettere che Padre Pio scriveva alle sue figlie spirituali, come ad esempio ad Assunta di Tommaso. Scrive, fai bene a non incominciare mai nessuna opera senza aver prima implorato l'aiuto divino, ciò ti otterrà la grazia della santa perseveranza. Si è benedetto il timore che di te stessa hai e finché avrai questo timore sta nel fondo del cuore tranquilla. Tempra però il timore con la più grande ed illimitata fiducia in Gesù da cui solo devi aspettarti frutti di benedizioni per te. Dopo l'abbandono e la dedizione di tutta te stessa a Gesù tieni sempre presente che non sei più tua ma di Gesù ed egli penserà a sorreggerti, ad aiutarti. Rinnova spesso questa dedizione e come vero anello del suo sacratissimo cuore dipendi dei suoi cenni, dei suoi desideri che si manifesteranno nel tuo cuore e questo deve essere il vero spirito delle spose di Gesù. Sta tranquilla e non temere il ruggire di Satana perché Gesù ti infonderà sempre tanto coraggio da debellarlo per sempre.